buonasera a tutti eccoci qui con il professor guglielmo gulotta che quasi non servirebbero presentazioni però per chi non avesse avuto ancora il piacere di riconoscerlo è stato ed è tuttora probabilmente una delle pochissime persone che ha avuto capacità di influenzare tanto la psicoterapia quanto la giurisprudenza perché si è occupato tanto di psicologia giuridica da un lato quanto di psicoterapia strategica essendo anche uno dei primissimi a importarla qui in italia oggi a me buongiorno professor gulotta buongiorno mi piacerebbe un pochino proprio parlare di questo un pochino della della sua esperienza in particolare nell'ambito della della psicoterapia guardi io io sono forma sono un avvocato e sono anche uno psicoterapeuta metto un attimo insieme queste cose nel senso che io quando mi affaccia io mi sono prima laureato in giurisprudenza quando mi sono affacciato all'interesse per la psicologia tutto nasce dalla visione di un film che riguardava freud che si chiamava passioni segrete sotto titolo freud e lì mi ero interessato siamo nel 1964 alla psicologia in particolare l'ipnosi guarda caso perché il film riguarda le prime attività con l'ipnosi e però tre che freud aveva con breuer sì che poi nacque quel libro gli studi sulla sessualità sulle solisteria mi corrego bene la passione fu per la psicoanalisi perché l'argomento era ma insomma l'inconscio siamo responsabili nostre azioni che mi interessava in quanto non adesso il problema me lo pongo con le neuroscienze ma non è di questo che voglio parlare a un certo punto io mi chiedevo se dovessi diventare uno psicologo cosa che poi feci con una scuola in specializzazione perché all'epoca non c'era ancora non c'erano i corsi laurea in psicologia che nascono nel 1970 a Padova io nel 69 mi sono già diventato psicologo con una scuola in specialità poi grazie alle regole che sono intervenuto questo mi ha consentito comunque di essere scritto nell'album degli psicologi e anche degli psicoterapeuti perché nel fratezzo anche Musati non era in origine iscritto all'albo perché allora non esisteva e poi noi siamo diventati sia psicologi che psicoterapeuti io mi domandavo all'epoca se avrei dovuto fare una supervisione per essere perché cominciavo con augusto ermentini uno psichiatra che mi diciamo passava dei pazienti ma era una cosa un po' selvaggia diremmo oggi perché io non avevo un training psicologico ma allora la situazione era questa lui mi aveva riconosciuto delle capacità io me la cavavo anche perché avevo cominciato con l'ipnosi a utilizzare l'ipnosi in senso terapeutico mi rendevo conto che per il mio carattere e per il mio modo di essere la cosiddetta neutralità dello psicoanalista non faceva per me io sono comunque uno di azione che deve fare e la passività consigliata dico solo consigliata perché poi di fatto non è precisamente sempre così comunque la passività consigliata al terapeuta per me era anche noiosa sotto il profilo caratteriale e poi non me la sentivo di lavorare ascoltando e basta come uno schermo una lavagna su cui il paziente scriveva i propri guai e i propri problemi e poi in quanto avvocato ero più volto a risolvere i problemi e pian piano io ho modificato il mio modo di ragionare per me le persone che si rivolgevano per un aiuto di carattere psicologico più che afflitte da sintomi erano per così dire afflitte da ostacoli che dovevano superare per poter raggiungere quel progetto di vita che tutti ci siamo fatti da ragazzi qui mi ha aiutato da un lato la conoscenza dell'opera di milton erickson mi viene riconosciuto di essere quello che ha fatto conoscere in italia milton erickson e quindi delle tecniche ipnotiche ma in senso strategico non tanto gli abracadabra quanto piuttosto quel modo abbastanza creativo di utilizzare quello che il paziente ti dava questo per un verso per altro verso sono stato molto affascinato dal libro di sartre intitolato le parole in cui lui racconta dei primi anni di vita suoi e spiega perché fa lo scrittore e in in alcuni libri mi pare critica della ragion pratica lui dice che gli esseri umani hanno questo progetto che devono raggiungere e che per raggiungerlo il processo di personazione così lo chiama devono avere degli obiettivi che perseguono che possono essere ostacolati allora ho messo insieme le cose e ho capito che per me quello che poteva funzionare da questo le persone mi raccontano dei problemi che possono essere anche di carattere giudiziario ma i primi carattere giudiziario sono poi di caratteri molto spesso di carattere personale perché danno ansia preoccupazione eccetera e comunque anche se non fossero il carattere giudiziario li considero dei problemi piuttosto che dei sintomi che cosa significa questo che il mio atteggiamento è sempre stato trasdiagnostico cioè pur rendendomi conto che le persone venivano all'epoca etichettate come nevrotiche psicotiche oppure come borderline e adesso che c'è il dsm hanno delle classificazioni in quanto disturbi e non più in quanto malattie a me interessava come non tanto quello che la persona è ma quello che la persona fa allo scopo di raggiungere un certo risultato il mio compito era e ho sentito ed è ancora così come posso rimuovere questi ostacoli che possono essere talvolta di carattere giudiziario o di carattere psicologico o entrambi d'altra parte il mio tono che è più di azione per carattere diciamo è un bel lavoro quello che ti spiega come certi caratteri diciamo degli studiosi e creatori di scuole psicologiche psicoterapeutiche mi correggo hanno poi inciso sulla loro teoria quanto conta il fatto che 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 froid vivesse in quel mondo in quella società in quella situazione il fatto che poi lui ha congegnato una certa modo di di curare il prossimo lo dico tra virgolette oppure che milton erickson avesse quelle limitazioni per cui era in carrozzella negli ultimi tempi non vedeva i colori ora era parecchio disturbato ecco ho inteso così quindi mi sono da subito io poi sono anche qui se mi dovessi definire filosoficamente io sono un relativista scettico non credo ci siano delle verità assolute penso che le persone abbiano la loro visione della realtà ognuno c'ha la sua come dice un bel proverbio cinese tre quarti di quello che vediamo è dietro i nostri occhi cioè a secondo di come noi ci poniamo nei confronti della realtà che stiamo vivendo allora se io parto da questa premessa rispetto al terapeuta cognitivo comportamentale il mio impegno non sarà di cambiare il suo modo di vedere la realtà ma di prendere la realtà per lui come la vede per vedere di agire in modo che tutto questo possa costituire un superamento dell'ostacolo che ha chiaro devo devo fare qualche esempio anche questo si rivolge a me una signora così vedete anche il problema il problema della mia attività di avvocato e di psicologo che mi dice ma insomma questo mio ragazzo che era qui con lei questo ragazzo cosa fa già non va bene in matematica dopo non la capisce bene già questo esame all'università di matematica anziché mettersi lì a studiare cosa mi fa la sera prima dell'esame cosa mi fa esce con gli amici torna magari sbronzo ha bevuto fumato spero che si sia limitato a un paio di sigarette normali e poi dopo è bocciato mi ha spiegato lo psicologo che trattasi di una nevrosi di destino e che lui si autopunisce e dice ecco per esempio qui uso una tecnica che consiste nel ristrutturare quello che mi ha detto in un modo diverso che sia più accettabile eccetera dico signora va bene lui non è bravo in matematica neanche io se le vuole sapere ecco intanto la apertura guai lo psicologista si domanda se può stringere la mano al paziente c'è una bellissima parola di Eric Bern in cui lui spiega che salutando il paziente si rende disponibile a stringere la mano senza allungarla però capisce che l'altro se vuole lo può fare dicevo quando dico che anch'io non sono bravo in matematica sto dicendo non so fare due più due però sono qui lo stesso in un bello studio la gente mi chiede consigli bene dicevo in questa piccola apertura che faccio sul mio conto poi dico vediamo un po' è chiaro lo capisce senza essere un grande studioso di psicologia se io vado a fare l'esame giù di morale perché so che non sono bravo in quella materia sarà facile che che io vada male perché conta molto il ruolo dell'aspettativa allora se io penso di non essere bravo in matematica io ho una attribuzione interna stabile e incontrollabile perché se non sono bravo in matematica ci può essere bel tempo ci può essere brutto tempo posso sforzarmi finché voglio sempre non sono bravo in vita ma se la causa per cui non ho fatto bene l'esame è esterna e controllabile perché io sono uscito con gli amici esterna quindi controllabile che posso e non è stabile perché io domani vorrei dire che la prossima volta che faccio l'esame non esco con gli amici non vado fuori a far casino la sera precedente ecco che riattribuendo le cose definendole con un frame diverso il mio atteggiamento e il mio lavoro consiste proprio nella capacità di farti vedere la realtà in una la tua realtà cioè tu non sei bravo in matematica d'accordo però vediamo come possiamo risolvere il problema di superare questo esame ecco questo dà un po' l'idea di come la penso senta in un c'è un titolo di un suo intervento a un convegno di terapia strategica del 2007 che è fantastico io non c'era all'epoca stavo finendo l'università ma trovandolo online ho visto che si chiama grammatica e sintassi della psicoterapia strategica ecco mi piacerebbe avere un pochino da lei un'idea di questo qual è la grammatica e la sintassi questo vuol dire in realtà è la grammatica e la sintassi di Milton Erikson come lui parla nelle cose fingiamo lei preferisce sentirsi meglio subito o tra poco è una costruzione molto suggestiva perché in teoria potrebbe sentirsi meglio tra un anno ma non subito lei è bravo non è bravo in matematica e però se la cava molto bene nella letteratura italiana io metto insieme le cose costruisco grammaticalmente sinteticamente le mie frasi in modo che l'altro sia un po' trascinato da quello che dico la smette di fumare è vero delle cose che le fanno male se mi risponda sì o no ecco io lo metto noti bene questo ragazzo non ci aveva ancora detto se fumava delle cose che gli fanno male ma mettendo le cose così lo costringo a dire sia che mi risponda sì sia che mi risponda no di avendogli detto lei la smette di fumare delle cose che fanno male di riconoscere che sta a fumare che può andar bene come non andar bene sento questo marito mi dice che picchia la moglie perché lei lei lo fa uscire le fa perdere le staffe lei ma non può controllarsi no 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 perché lei la deve vedere proprio io attenzione a dire questi perché non la strangola dico tranquillamente lei mi sta dicendo che non si controlla no va bene ecco allora esiste la quindi non si controlla ma fino a un certo punto questo passaggio devo stare attenti per così che non ti dica beh mi ha dato una buona idea provvedo appena vado a casa no questo passaggio consente a lui diciamo è una domanda strategica perché afferma più di quanto non chieda afferma cioè che non è vero che tu non ti puoi controllare tanto è vero che tu ti fermi a un certo punto uno che non si controlla purtroppo succede fa altro genere di cose metterti di fronte a questo ti può aiutare perché i quelli che noi chiamiamo dei sintomi sono dei circoli iniziosi perché io non bevo io mi sento agitato e sono ansioso e allora bevo per sentirmi più tranquillo però poi quando bevo poi mi sento agitato se non bevo allora bevo perché mi passi l'agitazione mi passa l'agitazione poi smetto mi vien da bere questo circolo vizioso comporta che poi è una profezia che si autoadente e cioè io se non bevo sto male quindi bevo per non star male ma quando bevo sto male e va a finire cioè che quello che mi trovo di fronte in questi casi è che spesso la soluzione tentata è un è precisamente problema proprio perché sto cercando di non bere perché mi fa male però poi bevo perché non perché ho la crisi di astinenza ecco e allora forse ma provi a bere un po' di più si sforzi ecco la prescrizione del sintomo beh provi a vedere cosa succede provi a proprio una ciunca terribile vediamo cosa succede lui comincia a capire che se il sintomo lo può aggravare significa che comunque è controllabile e quindi così come lo può aggravare lo può anche diminuire questo è naturalmente molto delicato perché bisogna essere certi che tutto venga mantenuto la dentro però rompere il circolo vizioso un punto fondamentale io non so se le cose andranno meglio quando cambierà so che per migliorare devono cambiare per forza e allora io sto cercando di vedere come posso riuscire a farle cambiare questo per me è uno dei punti essenziali del discorso certe volte ti dico fingi che o fingi lì che sono due cose diverse fingi chiedo di fingere oggi sto peggiorieri oppure fingere di essere più comprensivo del solito proviamo a fingere capite perché il fingere è terribile perché ti fa capire che tutto quello che tutto quello che dico e faccio può anche essere simulato l'attore ti dà uno schiaffo all'attrice perché così prevede la scena e lo schiaffo è vero ho finto di darti uno schiaffo che però ti fa male alla guancia perché è comunque uno schiaffo il fingere di fingere che sono posizioni che ti fanno capire da un lato che noi mi chiedono perché ho una certa credo non so se si nota una certa videocittà nell'esposizione se io ho fatto l'attore no io si beh si ripondo io lo faccio tutti i giorni nel palcoscenico della vita e ho come comprimari tutti quelli che mi stanno come te ascoltandomi in questo momento perché è così allora rendendosi conto che io posso fingere di mi posso chiedere se per caso quelli che io chiamo sintomi non siano delle cose che io agisco per esempio per difendere così come io posso dire che quel momento diciamo di prima notte di nozze e il tuo la tua capacità diciamo sessuale del giovanotto o il fresco sposo diciamo non è all'altezza della situazione ovviamente è uno smacco per lui ma potrebbe essere ridefinita come una cosa di tale felicità di tale gioia che la fetta di tenerezza che c'è in quella cosa che chiamiamo l'amore che è fatta diciamo di libido e anche di tenerezza ha preso il sopravento questo non significa assolutamente che non c'è trasporto che non ci sarà ma che quel momento è tanto cruciale che questo significa ovviamente per fare questo genere di cose bisogna avere gli strumenti quando io dicevo a quel ragazzo forse tu l'hai fatto o alla mamma del ragazzo perché così domani potrei dire agli esami io sono andato male perché ho fatto lo scemo e sono uscito con gli amici è un concetto che nella letteratura della psicologia sociale americana viene chiamato traduco in italiano auto impedimento cioè io mi metto in una situazione per cui non riesco a fare una cosa volontariamente proprio per vedere sono quelle cose che facciamo parlando degli esami quello che piange continuo non sono preparato non sono preparato poi qual è questo pessimismo defensivo cosa succede che si è promosso bravissimo dicevi che non è preparato e se non fa ve lo avevo detto non mi sono preparato bisogna avere conoscenza di tutti questi meccanismi per io non mi considero uno psicoterapeuta strategico ma uno psicoterapeuta stratega cioè è ancora contrario al mio modo di essere neanche di essere in quella corrente per cui non rigorosa certamente non è come quelli che un tempo dicevano che erano degli psicoanalisti ortodossi mi veniva un crampo alla pancia perché già non mi piacciono quelli che sono ortodossi nella religione ma quelli che poi sono ortodossi nella scienza una cosa mi fanno veramente pensare che non possono che essere poco poco efficaci perché se è vero che ciascuno di noi è come tutti gli altri come qualcun altro come nessun altro è evidente che aiutarlo significa confezionare un vestito su misura non un vestito diciamo di quelli che di taglia che va bene un po' per tutti perché quello lì ha bisogno di quella cosa e sentire che c'è quella che è l'importante della alleanza terapeutica cioè che tu perché ci sono talmente tante scuole comportamentale psicoanalitica esistenziale gestalte eccetera non si può dire tutti dicono che hanno una certa efficacia in effetti negli studi prima si notava c'è uno studio terribile che i pazienti in attesa di entrare in psicoterapia ormai con tutti che si sono più psicoterapeutiche e pazienti questa cosa non esiste più tant'è che scherzosamente dico che talvolta i terapeuti essendo finiti i pazienti si devono curare tra di loro per avere comunque del movimento ma allora voi non lo sapete voi siete giovani c'era la lista di attesa per andare dallo psicoanalista c'era la lista di attesa e uno studioso aveva esaminato come stavano quelli che erano in terapia e quelli che erano in attesa e questa attesa aveva certe volte era un placebo anticipato diciamo avevano dei risultati ottimi poi quando si è andato a vedere come mai le varie scuole avevano tutte dei risultati buoni in tempi diversi si è visto che quello che contava era soprattutto la relazione terapeutica cioè era il fatto che una persona venga accettata c'è una persona nel caso di terapeuta che ti ascolta non ti giudica ed è qui solamente per aiutarti che poi questo aiuto avvenga sai fanno le pulci molto alla psicoterapeuta alla psicoterapia strategica e all'ipnosi ah ma voi siete troppo dei maneggioni ah ma di che una volta li ho fatti molto arrabbiare perché all'epoca c'era grandi psicoanalisti come Servadio c'era c'era un convegno sull'ipnosi la psicoanalisi eccetera e allora una delle critiche era fatta ma voi praticamente mi invadete troppo il bello dell'ipnosi della strategica che palesemente il terapeuta si dà da fare con delle prescrizioni eccetera nelle altre è tutto mascherato prendiamo la psicoanalisi sto peggio è una resistenza non si preoccupi dobbiamo continuare sto meglio la classica fuga nella guarigione evidentemente i suoi sintomi si sentono aggrediti dobbiamo continuare sono arrivato tardi è una resistenza sono arrivato presto è troppo ansioso sono arrivato giusto lei è ossessivo capisci che qualunque cosa lui faccia ma io io che ho la visione strategica capisco che si tratti di tatti che l'altro invece crede che siano delle interpretazioni poi alla fine però l'altro ha capito che qualunque cosa e che lui solo sa quello che deve fare e però non glielo dice la differenza che io glielo dico mi sembra che nel suo modo di fare terapia la terapia strategica spesso poi lei ha definito io sono più terapeuta stratega che strategico però nella terapia strategica spesso c'è da parte di terapeuti in particolare quelli che approcciano per la prima volta alla terapia strategica una grande enfasi sulla tecnica invece da quello che lei mi ha detto mi sembra che giustamente peraltro aggiungo io lei dà una grande enfasi alla comunicazione sì va bene ma sai non basta dire comunicazione perché comunicazione di che cosa cioè mi piace ridere insieme a un libro di commedia e trame nel matrimonio dove faccio vedere c'è cioè i due coppie devono comunicare ma anche quando si danno della stronza sceva puttana e invece le stanno comunicando bisogna vedere che cosa comunica allora qui la comunicazione strategica è quello che stavo dicendo diciamo questo l'enfasi è non è non mi interessano i sintomi certo salvo sempre psicotico grave è chiaro che non stiamo parlando di questi casi mi interessa vedere qual era il tuo progetto di vita come stai ostacolando come insieme possiamo risolvere per migliorare per superare questi ostacoli questo è per quello io ti posso dare delle indicazioni tu vedi come fare la mia indicazione nel caso è questo provati a provare più mal di testa ma come c'è perché lei scusi lei soffre di sogna qual è il problema è che lui quando si mette lì sull'auto non dormi oddio non riesco a dormire oddio non riesco a dormire e così adesso voglio proprio dormire ora è chiaro che uno che è impegnato a dormire non si addormenta perché il tentato i tentativi fatti contro sono precisamente quello che lo provano cosa facciamo tutti? ci mettiamo a leggere due pagine di un libro che non riusciamo a leggere più di due pagine che sono sempre due pagine che leggiamo perché? perché la nostra attenzione non è più dirottata sul fatto che mi devo addormentare ma devo dire a me in casa la televisione dei film possibilmente scegli perché se è un film magari interessante mi prende e non mi addormento invece un film un po' stupinino non orrendo ma stupinino lo guardo e poi mi lascio andare capito? ma queste sono piccole strategie che usiamo tutti a certe volte anche perché devi rendere conto alla moglie al marito ai figli non devi far così non devi far colà mangi troppo a tra poco mi ha raccontato una comunicazione che gli piacerà stavo mangiando e un'amica mangiando della morta guarda che ti fa male il grasso animale scusa ma c'è la virgola o non c'è la virgola devo capire ti ho detto ti fa il grasso animale e va bene oppure ti fa male il grasso animale capito? io poi sono un cultore delle parole per me sono un custode di come si parla e non mi piace come si parla l'ultima che non mi piace adesso non sono più capaci di dire silenzio devono dire silenzio assordante perché sta roba gli piace godono perché gli sembra una figura retorica straordinaria silenzio assordante non c'è più silenzio che fino ha fatto il silenzio? spesso e volentieri spesso e volentieri ho delle crisi d'ansia spesso capisco poi volentieri non credo questo ti dico che voi e noi che facciamo questo lavoro prima bisogna studiare anche cose che vengono da fuori dei nostri studi prettamente clinici perché se noi studiamo la relazione dobbiamo sapere che cosa dice la psicologia sociale interpersonale delle relazioni perché solo così noi possiamo poi portarle in quel contesto speciale che è la relazione d'aiuto perché io la vedo non tanto come una cura ma come una relazione d'aiuto le chiedo l'ultima l'ultima cosa è ascoltarla ancora a lungo però una cosa una domanda che faccio sempre alla fine delle mie delle mie interviste che credo che lei possa dare un contributo notevole io chiedo sempre immagini immagini di dover dare un suggerimento a un giovane psicologo un suggerimento a un giovane psicologo a un giovane psicologo immagini un suggerimento per praticare nella vita di tutti i giorni nella vita quotidiana qualcosa fare un esercizio immaginiamolo così che gli permetta poi di essere un migliore psicoterapeuta quando si trova a studio quindi che suggerimento gli darebbe quale esercizio gli direbbe di fare Senta io l'esercizio non ce l'ho io posso dire questo ai suoi ascoltatori nella fondazione mia omonima c'è la possibilità di scaricare dei libri che sono libri che ho scritto io e che poi quando è esaurito presso l'editore io ho poi mi sono preso i diritti ripreso i diritti e poi l'ho messo gratuitamente i libri sono due uno si chiama psicologia della psicoterapia scritto con del castello consiglierei di leggere ma soprattutto consiglierei di andare a leggere il terapeuta stratega quello è il libro che è la mia somma di questa materia in cui le cose che le ho detto così di corsa sono dette più in dettaglio non so per esempio l'uso dell'umorismo nel colloquio con attenzione che non si senta preso in giro l'uso della metafora che non sono solo le solite metafore ma come si possa usare la metafora da su giù mio marito è un mio matrimonio è un inferno quindi vuol dire che lui è un diavolo con tutto quello che la metafora si porta dietro non la mica inventata la psicoteca strategica perché anche il nostro signore Gesù Cristo faceva le parabole perché diceva allora perché suocera intendesse e cioè che è molto più facile far arrivare qualcosa indirettamente perché direttamente ti difendi indirettamente no il mio consiglio è studiarti che è una cosa alla fine domandarsi poi quanto di me sono io perché non è tanto chi sono io quanto di me sono io voglio dire io sto facendo questo lavoro intanto primo perché lo faccio perché ho deciso di aiutare il prossimo perché aiutando il prossimo mi sento meglio mi sembra di avere una situazione di controllo perché se io aiuto gli altri vuol dire che non ho bisogno io di essere aiutato oppure perché il caso mio nonno era guardava dentro la gente a me il sangue fa impressione probabilmente io che porto il suo nome li guardo dentro ma senza sangue è così che e perché questo ti fa ragionare e porti vedi per esempio l'autosvelamento dicevo prima anch'io non so la matematica quando mi viene uno che mi parla male delle donne alla pacchia perché io gliele dico di peggio non lo dica a me per carità con mia moglie io con mia moglie non riesco a arrivare neanche secondo quando discutiamo e lui mi dice e io gliele che cosa perché cosa gliele perché se io che sono in uno studio decente collaboratori attorno a me giovani ho scritto qualche libro fatto e in più dispenso a pagamento consigli significa che nonostante le donne mi abbiano dato dei dispiaceri mia moglie mi ostacoli eccetera cosa fa lui posso raggiungere comunque il risultato che ho presentato a me questo è il messaggio implicito nel disfianamento di una cosa che a lui non gliene frega niente se io vado d'accordo con il mio moglie mi interessa che è lui che non va d'accordo con il suo non so se mi chiede queste sono tattiche perché come dice uno psicologo americano Maslow se risponi soltanto di un martello sei portato a concepire qualcosa come se fosse un chiodo e sei solo un martello vedi il chiodo l'ha perduto capito allora più allarvi la visione e più hai la possibilità di vedere gli iscrimesi mentre noi con la parola neve abbiamo solo degli aggettivi neve fresca neve fradicia neve fredda neve fresca no scusa neve gelata neve marcia eccetera loro hanno una dozzina di nomi propri per la neve perché per loro vederla e poter al telefono o non so come dire qual è la situazione della mia amica qui quando tu stai venendo da me è molto importante avere una parola che descrive la sua consistenza e altre cose che noi non vediamo neanche perché mi sono quando ero vivo vedeva più colori di quanti non le vedo normalmente io vedo quelli dell'arcobaleno non saranno sei sette non mi ricordo quanti sono uno che lavora nel campo del colore e io non li vedo se me ne metti vicino mi rendo conto che questo azzurro è diverso dall'alto per questo dico il consiglio studiare mi rendo conto che è un consiglio più da padre e da nonno che da collega ma forse è il primario quello di base è quello che forse oggi è più utile perché a volte studiare sembra essere passato un po' di moda professor Golotta grazie mille è stato veramente gentile e generoso consiglio anche io a chi ci segue di leggere i suoi libri in particolare quelli appunto che riguardano la psicoterapia e la psicologia grazie mille e a questo punto prego un piacere arrivederci a presto arrivederci grazie mille